Hola hola, benvenuti, bentornati. Macchie dopo l'estate. Sta finendo l'estate e sicuramente ti sono comparse delle macchie, forse qua nelle guance, nei zigomi, eccetera. In questo video ti faccio tutta una routine da utilizzare durante un mese per rimuovere tutte queste macchie. Eccoci qua di nuovo. Allora, siamo nell'ultima settimana d'agosto. Io continuo con le mie vacanze. Oggi mi arrangio con il mio iPhone dalla Grecia. Mi piace il mio albergo. Io vi volevo fare sempre il video all'esterno, ma con il sole non riesco a avere una bella inquadratura e anche una buona luminosità. Ma io penso che qua il contenuto, che è quello che interessa, ci sarà sicuramente. Me lo avete chiesto in tanti di voi, in tante di voi, cosa fare dopo l'estate, adesso che andiamo via dal mare, che torniamo in città, che inizierà l'autunno, e quindi cominceranno a comparire. Man mano si toglie la bronzatura, cominceranno a comparire qualche macchiolina sulle guance, i zigomi, il naso, forse la fronte. E in questo video io vi farò la routine che dovete seguire durante il mese di settembre per rimuovere tutte queste macchie. Io non potevo mancare in questo nostro appuntamento di giovedì, quindi sono salito dal mare e vi sto registrando il video. Ma se a te piace questo video, o se ancora non mi segui e non sai chi sono, Io sono il dottor Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, lavoro principalmente a Milano, e come si vede non sono italiano. Sono spagnolo, ancora ho questo accento, pur vivendo da tanti anni qua in Italia. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale di YouTube, ti invito a iscriverti qua sotto, e se ti piace il video fai così e segna anche il campanello per non perderti nessuno dei miei video. Di solito sempre di giovedì, dove vi parlo di cosmetica, di estetica, eccetera, per cose più pratiche o più tecniche sulla medicina estetica, sulla chirurgia estetica, su quello che è il mio lavoro in studio medico, ti invito a andare sul mio Instagram, dove lì pubblico altri tipi di consigli. E andiamo all'argomento di oggi. Le macchie dopo l'estate. Ahimè, compaiono. E compaiono due tipi di macchie. Una sono quelle che abbiamo avuto sempre in passato, o abbiamo avute sempre in passato, e che con il sole, pur proteggendo la nostra pelle dal sole, pur utilizzando la protezione solare, vanno di nuovo a ripresentarsi. E quelle sono le macchie che avremo tutta la nostra vita, perché, ahimè, la nostra pelle ha una memoria. E a me, che sono medico, che mi preoccupo della mia skin care, della mia cura della pelle, mi compaiono, io ho una macchia qua nel naso, e anche una qua, lateralmente, che le ho da tanti, tanti anni. Questa specialmente mi è comparsa da quando nuotavo, forse senza tanta protezione solare, perché girando sempre da questa parte mi dava il sole, o forse in macchina, non lo so, ma comunque, durante l'estate, vedo che sono più intense, e poi durante l'inverno, autunno-inverno, devo lavorarci per ridurre l'intensità di queste macchie. Le altre macchie, gli altri tipi di macchie, sono quelle che compaiono nuove, e che quelle sono molto più facili da rimuovere. Quindi, macchie vecchie, che si ripresentano, l'unica cosa che possiamo è attenuarle, o assottigliarle la intensità della macchia. Macchie nuove, quelle che si ripresentano come nuove nell'estate, quelle sono più facili da togliere, perché sono ancora in quell'estato dove possiamo togliere tutta la melanina. E io, con questo video, vi creo la routine da utilizzare quattro settimane. Quattro passaggi, vi darò quattro passaggi per il giorno e quattro passaggi per la notte, e la potete utilizzare durante quattro settimane, che saranno il tempo necessario per poter rimuovere le macchie. Perché? Perché la nostra pelle si rinuova ogni 28 giorni. Quindi, con quattro settimane sarà più che sufficiente. Ci saranno delle persone che avranno bisogno di più settimane, potete andare tranquillamente avanti. Quindi settembre e forse anche ottobre per rimuovere tutte queste macchie. Iniziamo con la routine di giorno. La routine di giorno, l'ingrediente fondamentale, come sempre, la mia amata, la nostra amata, vitamina C. E l'applicheremo in forma di siero. Quindi, quattro passaggi. Primo passaggio, detergere la pelle. Quindi potete utilizzare qualsiasi detergente. Un latte detergente, un olio detergente, un sapone, anche se i saponi seccano un pochettino più la pelle, il detergente liquido. Ma potete utilizzare qualsiasi tipo. Non andate a comprare uno nuovo. Basta quello che avete a casa. Io non sono tanto convinto dei principi attivi dentro del detergente o del latte detergente perché alla fine è una cosa che non resta in contatto con la nostra pelle. Lo applichiamo, lo laviamo con l'acqua e quindi non sta lì a contatto con la nostra pelle. Quindi preferisco spendere di più in un siero, in una crema che mi resta in contatto con la mia pelle durante tutto il giorno e che andrà a lavorare durante tutto il giorno. Quindi, primo passaggio, il latte detergente. Secondo il latte detergente o la detersione in sé. Secondo il siero di vitamina C. E in questo video che siero vi consiglio oggi voglio consigliarvi questo siero di Drunk Elephant di vitamina C. Un pochettino costoso, lo riconosco, ce ne sono altri un po' più economici, ma questo a me è piaciuto tantissimo. Sapete che per me il siero di vitamina C di esccellenza è quello di SkinCeutical, ma questo è quello che costica 150-160 euro. Questo lo abbiamo da Sephora, mi sembra 75-78 euro, che so che è costoso, ma vi assicuro che è una vitamina C al 15%, quindi un pochettino concentrata. Ho un pH, se non ricordo male, del 3,3 o 3,2, e loro dicono che, avendo quel pH, la durata di effetto del siero è durante 72 ore, quindi ottimo, e oltre ad avere la vitamina C, ha la vitamina D e anche il ferulico. Quindi tre antiossidanti potentissimi per aiutarti a rimuovere le macchie e a proteggere anche la tua pelle e a dare un bel botto di antiossidanti. Terzo passaggio, la crema idratante, l'idratazione. Io in questa routine che vi sto costruendo vi consiglio questa della Codalie, la Vino Perfect. Sapete che il loro siero antimacchie è uno dei più venduti qua in Italia, qua in Italia, no? Perché sono in Grecia, ma voi state guardando il video sicuramente dall'Italia. È uno dei più venduti in Italia. Mi piace tanto quel siero, ma se vogliamo fare una cosa più di urlo, un pochettino più di attacco per queste quattro settimane per rimuovere le macchie dal sole, preferisco utilizzare altri ingredienti. Quindi invece di consigliare il siero della Codalie, il Vino Perfect, vi consiglio la loro crema idratante che avvinata alla vitamina C di Drunk Elephant vi darà degli ottimi risultati. E come ultimo passaggio nella nostra routine di quattro passi da seguire in quattro settimane, cosa dobbiamo mettere? La protezione solare, sempre la protezione solare. In questo caso vi ho scelto una protezione solare di SDIN che oltre a proteggere la vostra pelle con un fattore di protezione 50, tanto per i raggi UVA come per gli UVB, ha dentro della formulazione una serie di ingredienti che aiuteranno a rimuovere anche le macchie. Quindi abbiamo tutta una routine in quattro passi da seguire quattro settimane, una routine per la mattina dove abbiamo la detersione, la vitamina C, il siero della vitamina C della Drunk Elephant, la crema idratante della Codaly, la Vino Perfect e la protezione solare 50 della SDIN con agenti o con ingredienti che aiuteranno a rimuovere le macchie. Andiamo alla notte. Durante la notte possiamo essere un pochettino più aggressivi, quindi possiamo lavorare con gli acidi per fare un effetto peeling, togliere le cellule morte e rimuovere quegli accumuli di melanina, di pigmento che si vanno a depositare negli estratti superficiali della nostra pelle. Ahimè, e so che a tanti di voi vi romperà questo un pochettino, utilizzando gli acidi, i peeling di notte toglierete l'abronzatura, quindi sicuramente l'abronzatura andrà via più veloce di quanto potrebbe andare via se utilizzate altri prodotti. Due trucchi per quelli che non vogliono perdere l'abronzatura. Uno, mettere al mattino una protezione solare con un pochettino di colore. Quella che vi ho consigliato della SDIN c'è la versione con il colore o dopo la protezione solare mettete un fondotinta. Trucco numero due, utilizzare un autoabronzante. E nel video della scorsa settimana, forse due settimane fa, ma vi consigliavo questo autoabronzante di TAMLUX che si mettono delle roccine e va a creare un'autoabronzatura che è completamente diverso alla creazione della melanina, alla creazione di pigmento e quindi non dovete avere paura delle macchie perché non favorisce o non... sì, non favorisce la formazione delle macchie. Quelli sono due trucchi che potete utilizzare. E torniamo al discorso che stavamo facendo, la routine di notte. Quattro passi da fare in quattro settimane. Primo passo, la detersione. E come detersione potete utilizzare lo stesso che avevate utilizzato al mattino. Vi ricordo sempre, se vi truccate, se applicate tanta protezione solare durante il giorno, alla sera, fate una doppia detersione. Quindi utilizzate due prodotti, un olio, un latte detergente, un'acqua micelare, un latte detergente o un olio per rimuovere tutte le tracce di trucco e tutte le tracce di protezione solare. E quindi, il primo passaggio, la detersione. Dopo della detersione andiamo a applicare un tonico con acidi, con effetto peeling. E questo ve l'ho consigliato mille volte. vorrei consigliarvi nuovi prodotti ma questo ve lo dovevo riproporre perché io lo amo e sicuramente di notte si può dire che me lo bevrei nel senso che utilizzo una quantità esagerata nel senso che l'utilizzo tante notte nella mia routine soprattutto quando torno dal mare ed è questo di Ren è il Reedy Tonic ha un nome strano in inglese che non mi ricordo mai ma comunque un tonico che contiene l'acido lattico quindi l'acido lattico che va a sfoliare a togliere le cellule morte della superficie della cute l'acido lattico è specialmente indicato per le persone che hanno la pelle sensibile o per le persone che si sono esposte tanto al sole e c'è un'irritazione perché con l'acido lattico potete stare tranquilli che non vi irriterete quindi forza con questo acido oltre a quello all'acido salicilico di modo che va a preparare la pelle per ricevere altri principi attivi e ha altri composti altri ingredienti che aiuteranno anche a rimuovere le macchie questo prendete un cotone un dischetto di cotone lo bagnate bene con il tonico e lo passate in tutto il viso lasciate di asciugare e poi andiamo al nostro terzo passaggio allora questo tonico non è molto costoso questo siero il terzo passaggio che vi consiglio è un pochettino costoso lo so ma merita ed è questo il discoloration defense di SkinCeuticals un siero a base di acido tranexamico di niacinamida e quanto mi piace la niacinamida di notte soprattutto alla sera perché nel quarto passaggio metteremo il retinolo e la niacinamida con il retinolo sono i migliori amici per rimuovere le macchie quindi parlavamo del terzo passaggio questo siero di SkinCeuticals il discoloration defense con acido tranexamico che è un acido specificamente pensato per le discolorazioni per le macchie dovute un processo infiammatorio a un'esposizione solare a un'irritazione dal sole e quindi blocca la formazione della melanina e oltre a quello c'è la niacinamida e ci sono altri ingredienti di nuovo che vanno a migliorare la texture della tua pelle a uniformare l'incarnato a ridurre i pori a darti una pelle esplendida e poi andiamo al quarto e ultimo passaggio della notte possiamo fare una routine più complessa ma io ho voluto farvi quattro passaggi da utilizzare durante quattro settimane per rimuovere tutte le vostre macchie quarto passaggio la crema idratante notte e la crema idratante notte ho selezionato per voi ho scelto per voi questa di Murat la Yout Renew che è una crema molto leggera io l'ho utilizzata l'anno scorso dopo l'estate l'ho scoperta l'anno scorso sono andato in farmacia non avevo mai utilizzato niente di laboratorio Murat e ho comprato diversi prodotti di loro e questa crema vi giuro mi è piaciuta tantissimo non unge è molto leggera molto delicata conserva perfettamente i principi attivi perché come principio attivo al retinolo l'aniacinamida l'aniacinamida perché vanno contenuti in un flacone airless cosa vuol dire che non entra l'aria e quindi si preme la parte superiore del flacone ed esce un pochettino di crema giusto quello che ci serve per idratare tutto il nostro viso di modo che i principi attivi come sono il retinolo e l'aniacinamida si vanno a conservare perfettamente la stessa cosa succede nella vitamina C di Drunk Elephant che vi avevo consigliato al mattino mi piace tanto perché il flacone è airless quindi non entra il sole non entra l'aria non entra niente e quindi si conserva molto meglio quindi quattro passaggi al mattino quattro passaggi alla sera da utilizzare durante quattro settimane per rimuovere le vostre macchie ci sono altre alternative di sicuro che ci sono più economiche più costose ma non vi posso dare tutte quindi ho scelto i prodotti che quest'anno utilizzerò anche io la prossima settimana che rientro a Milano me li compro tutti per farmi questa routine durante settembre e questi quattro passaggi mattino detersione vitamina C di Drunk Elephant crema idratante di Codalì la vino perfect e la protezione solare di Sdyn per rimuovere le macchie alla sera detersione il tonico di REN con acido lattico il siero della Skin Cedical il Discoloration Defense e per ultimo la crema idratante della Murat di Murat di laboratorio Murat con retinolo e niacinamida e spero che questo video quasi improvvisato no ma guardate me li preparo tutti mi studio tutto lego tutto vi potrei dare molta più informazione perché per riassumere tutto quello che vi dico e parlo tanto vi giuro che faccio i video film troppo lunghi e me lo studio tutto lo compongo tutto quindi non pensate che per restare in vacanze non preparo le cose per voi che questa mattina ero al mare ed ero lì con il mio cellularino guardando tutte le informazioni e tutte le cose per non dire nessuna minchiata comunque una parolaccia comunque se pensate che ho detto qualcosa che non va bene se c'è qualcosa che non vi torna eccetera mi potete scrivere qua sotto i vostri commenti mi potete scrivere anche su Instagram o sul mio sito web che io o anche su Facebook che io piano piano quando vedo i messaggi ho un pochettino di tempo rispondo quasi tutti i vostri messaggi ma è difficilissimo davvero rispondere a tutti perché siete tanti io vi adoro perché mi fate tante domande che purtroppo faccio fatica a rispondere ma mi date anche dei consigli che utilizzo per farvi nuovi video ci vediamo la prossima settimana sicuramente non in questo paradiso dietro c'è il mare io sto registrando e sto guardando tutta la mia finestra col mare dietro e vi saluto vi ringrazio di esserci ogni settimana e non dimenticatevi se vi è piaciuto il video vi chiedo di qua sotto fare like e dare a iscriverti al mio canale grazie 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 ci vediamo ciao